Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò un esercizio di meccanica analitica, nello specifico scrivere l'equazione del moto per il pendolo sferico, con una particella pesante vincolata a muoversi su una superficie sferica, inoltre studiarne la dinamica. Allora, come ho sottolineato lì, particella pesante implica che noi dobbiamo considerare l'accelerazione di gravità, ok? Inoltre, essendo un problema a tre dimensioni e per lo più vincolato a una sfera, conviene utilizzare le coordinate sferiche, ok? Invece che le coordinate cartesiane che complicherebbero il tutto, anzi, cioè avrebbero dei calcoli improponibili. Allora, quindi x deve essere uguale ad r seno di teta cos fi, y uguale ad r sen teta sen fi e z uguale a r cos theta, ok? Quindi noi siamo passati dalle nostre coordinate x, y, z a coordinate r teta fi, ok? Quindi abbiamo fatto questo cambio di coordinate. Questo esercizio lo risolviamo con la meccanica lagrangiana, nel caso uno non sapesse la teoria che c'è dietro, vi consiglio di andare a guardare i video di Matteo, in cui dimostra molto bene le equazioni di Lagrange. Bene, allora, facendo qualche calcolo viene data, ormai come è tabulata, l'espressione dell'energia cinetica in coordinate sferiche, ed è appunto un mezzo m per r punto quadro più r quadro teta punto quadro più r quadro sen quadro di teta fi punto quadro, ok? Adesso, la particella è vincolata a muoversi nella superficie della sfera. Implica che questo raggio r è fisso e di conseguenza non è più un variabile nel tempo, ok? Se invece fosse stato lungo una specie di ellissoide, allora ovviamente il raggio cambiava in corrispondenza dal centro. In questo caso, essendo una sfera, il raggio è uguale in ogni punto. Ovviamente dobbiamo immaginare un disegno in 3D, ok? Qua è come se fosse vincolata la parete alla superficie laterale, no? Di tutta la sfera. Bene, quindi il termine r punto quadro non lo contiamo, anzi è zero, perché la derivata di una costante è zero. Poi l'energia potenziale è soltanto l'energia gravitazionale, l'energia potenziale gravitazionale che è data da mg z, cioè mg r coseno di teta. Quindi, poiché ci troviamo in un sistema naturale, la grangela naturale, l è uguale a t meno v, cioè un mezzo m r quadro teta punto quadro più r quadro coseno quadro teta fi punto quadro meno mg r coseno di teta. Ok? Adesso ci troviamo le equazioni del moto che vengono date appunto derivate in ddt, ddtl rispetto a q punto meno derivata parziale rispetto a q, questo è posta zero. Le nostre uniche variabili sono fi e teta e allora andiamo a scrivere le equazioni del moto per queste due variabili. Allora, per fi sarà quindi di in ddt fi punto meno derivata rispetto a fi e questo è posta uguale a zero. Allora, osservando la nostra lagrangiana, notiamo che questa espressione non dipende da fi. Ok? Quindi la derivata rispetto a fi è uguale a zero. Quindi lo scriviamo, derivata parziale della lagrangiana rispetto a fi è pari a zero. Quindi significa che è solo rispetto a fi punto. Quindi sarà di in ddt di m r quadro sen quadro teta fi, questo è posta uguale a zero. Questo mi sta dicendo che abbiamo questa espressione, cioè che m r quadro sen quadro di teta fi punto è uguale a zero, che implica che questo è proprio il nostro momento angolare. Ok? Che è il modulo, anzi, del momento angolare. Facendo gli stessi calcoli per teta, allora, d in ddt della derivata parziale della lagrangiana rispetto a teta punto è uguale a d in ddt di m r teta punto, cioè m r quadro teta due punti. E poi abbiamo la derivata rispetto a teta, che svolgendo tutti i calcoli risulta m r quadro fi punto quadro seno di teta coseno di teta più m gr seno di teta. Quindi scrivendo l'equazione per intero, quindi scrivendo l'equazione per intero, diventa di questo tipo. m r quadro teta due punti meno m r quadro fi punto quadro seno di teta coseno di teta più m gr seno di teta. tutto questo uguale a zero. E così ho risolto, o anzi ho trovato, l'equazione del moto per questo tipo di problema. Adesso ci chiede di studiare la dinamica. Ok? Cosa andiamo a fare? Andiamo a scrivere l'energia totale associata. Quindi E, che non è nient'altro che t più v, quindi un mezzo m r quadro di teta punto quadro più seno quadro teta fi punto quadrato più m gr cos teta. Adesso noi sappiamo che fi punto quadro, o meglio, che fi punto è uguale ad l diviso m r quadro seno quadrato di teta. Ok? Quindi, e questo come lo sappiamo da queste equazioni qua, ci sta dicendo che è costante, perché quindi il momento angolare si conserva. Quindi possiamo scrivere l'espressione dell'energia come un mezzo m r quadro teta punto quadro più un mezzo m r quadro seno quadro di teta l quadro diviso m quadro r alla quarta seno alla quarta di teta più m gr cos teta. Svolgendo i calcoli e semplificando il tutto ottengo che l'energia è uguale ad un mezzo m r quadro più l quadro 2m r quadro seno quadro teta più m gr cos. E questa prima parte la definiamo come energia cinetica efficace e tutta questa seconda parte, che è costante, che non varia, o meglio, che varia soltanto in funzione di teta, la chiamiamo potenziale efficace. Ed è giusto perché il potenziale dipende soltanto dalla coordinata q e invece l'energia cinetica dipende da q punto, che è quadratica nell'eq punto. Bene, quindi adesso facciamo il ritratto di fase di questa energia. L'unica variabile in questo caso è teta, quindi si fa il limite quando teta tende a 0 più del mio potenziale efficace che dipende da teta, e se fate i conti questo è più infinito, e il limite quando teta tende a più infinito del mio potenziale efficace in teta è sempre più infinito. Quindi io ho un grafico di questo tipo, che andrà ovviamente all'infinito così. Ok, quindi facciamo vedere che in effetti esiste un unico punto di minimo, che lo chiamiamo RC, punto di minimo, e poi man mano che saliamo con l'energia troveremo due punti, che chiameremo raggio minimo o raggio massimo. Ok, ovviamente questo è un grafico dove nell'ordinata dipende dal potenziale efficace e nell'ascissa da teta. Analogamente, quindi, possiamo calcolarci il ritratto di fase, ok, in cui tiriamo giù e prendiamo questo come RC, punto fisso, e poi il raggio massimo e il raggio minimo, che quindi saranno di questo tipo, in senso orario. Ok, man mano che si andranno a prendere più punti, allora ci saranno altri tipi di circonferenze, tutte di questo tipo. Beh, circonferenze, praticamente degli ellissi, ok? Questo cosa mi sta a dire? Questo ovviamente è un grafico in teta punto, in teta, e questo mi sta a dire, praticamente, che ci sarà un moto nella circonferenza di questo tipo. Adesso fare un disegno che rende effettivamente il tutto più chiaro, non è possibile, comunque sarà delimitato da un raggio minimo, un raggio massimo, e avrà questo tipo di andamento. Ovviamente, questo è per la superficie che ne riusciamo a vedere, analogamente ci sarà per la parte dietro, ok? Questo è un po' difficile da visualizzare, però comunque fa capire dell'idea che effettivamente c'è un moto oscillatorio. Bene, spero che sia stato tutto molto chiaro, nel caso aveste dei dubbi, delle curiosità, o vorreste altri esercizi svolti di qualunque materia che comprenda nel corso di laurea in fisica, siamo disponibili. Grazie a tutti. Grazie a tutti.